Ciao a tutti, come sempre vi ho promesso che sarei ritornato a raccontare un po' di cose e così è, oggi è il 31 maggio ed è l'ultimo giorno di incisione, non è finito il lavoro, diciamo che è all'80%, adesso come voi sapete a luglio riprenderemo, i Poo riprenderanno la tournée estiva, poi fra l'altro la riprenderemo anche quest'inverno, novembre e dicembre, però ne parleremo con la sera al momento e allora adesso lo abbandono per un po' questo mio progetto, lo abbandoniamo io e Danilo in modo particolare, lo riprenderemo a settembre, verso la fine di settembre, ottobre, perché? Per rifinirlo, per fare i missaggi e preparare, confezionarlo come deve essere confezionato e uscirà a gennaio, verso metà gennaio, per cui c'è da attendere un po', però ne vale veramente la pena, credetemi, io sono molto molto soddisfatto perché il lavoro è venuto, sta venendo veramente al di là di quello che potevano essere le mie aspirazioni più grandi, perché alcune volte accade che non è così, no? Perché immagini, non sempre diciamo è facile tradurre quello che tu hai nella testa, poi tradurlo attraverso gli arrangiamenti, attraverso gli strumenti, attraverso i suoni, in questo caso invece devo dire che sono veramente soddisfatto, poi guardate questa faccia, è una soddisfatta? Sono veramente contento e felice, ci risentiremo ancora, ci rivedremo ancora, perché magari vi racconterò un po' di più, però per il momento io vi saluto e vi ringrazio per quello che state facendo, vi sto leggendo, state scrivendo delle cose bellissime e devo dire che mi servono a darmi la carica, no? Che ci vuole sempre per fare anche questi progetti. Ciao, vi abbraccio, a presto, ciao!